Ferrari, una multinazionale così fisica come dicevamo poco fa, come affronta il problema della trasparenza, della velocità che inevitabilmente aprirti ad un social network comporta, sia in mobilità ma anche non in mobilità. Immagino avrete affrontato il problema. La trasparenza della comunicazione. La trasparenza della comunicazione, certo. Beh, credo come tutte le grosse aziende inizialmente l'abbiamo affrontato con un po' di timore, nel senso che aprirsi poi vuol dire anche avere tutta una serie di critiche, avere tutta una serie di... Prendeci come le critiche che ci stiamo prendendo, appunto. In realtà io credo che tutte le aziende come la nostra farebbero volentieri, voglio dire a meno, del social, degli user generated content, eccetera. Dopodiché però la valutazione che noi abbiamo fatto e che credo che sia fondamentale è che probabilmente ci sono molto più opportunità di svantaggi in questa apertura e nell'avere appunto una relazione, nel creare un rapporto diverso. Per cui un po' di, come posso dire, mal di pancia all'inizio e poi pian piano che questi strumenti si conoscono e si usano meglio, le cose diventano un po' più facili e alla fine degli ottimi risultati direi.